buongiorno questa mattina ho dei capelli all'einstein va beh perdonate i miei capelli all'einstein quelli pochi che sono rimasti ma non mi sottraggo e ho tempo all'appuntamento del del giovedì anche perché sul sito il mio dottore è arrivata un grido di dolore che non si può non raccogliere perché terribilmente semplare soprattutto esemplare del fallimento dei percorsi psicoterapeuti e di come tutta la psicologia di oggi è fondata su una concezione di quest'organo totalmente errate come dire l'epoca moderna la cultura moderna i rappresentanti della cultura moderna coloro che dicono di dover formare si sentono la responsabilità di formare uomini non conoscono l'uomo sul tempio di delfi che era scritto conosci te stesso e poi conoscerai il mondo e dio ma l'epoca moderna i cultori dell'uomo dell'epoca moderna non conoscono l'uomo e sentiamo questo grido di dolore buongiorno ho 52 anni sono in procinto di perdere il lavoro a causa delle mie problematiche psicologiche più o meno da sempre sono state caratterizzate da un'autostima molto bassa e da una profonda insicurezza questo concetto di autostima in qualche mio video ho detto che lo stesso concetto psicologico di autostima sta creando problemi a una bella famiglia moglie due figlie e a causa delle mie problematiche di evitamento la sto portando sull'orlo di un precipizio in passato ho fatto psicoterapia con diversi professionisti ma non ci ho ricavato cacciato nulla nulla probabilmente per mia incapacità come in tutto attenzione questo giovane questo giovanotto di 52 anni ha fatto psicoterapia con molti professionisti non ci ha ricavato nulla e stranamente l'hanno convinta e l'hanno convinta è lui la causa è lui che che è incapace ecco quello che dice e quando uno si convince che è incapace dopo che l'ha tentato in tutti i modi e da per scontato è incapace purtroppo per chi conosce la mente è quello che vogliamo fare con la scuola insegnare alle persone come funziona perfettamente quest'organo che non è unico lei non questa scatola unica ma è fatta di due funzioni una tipica della specie umana e l'altra quella che abbiamo in comune con gli animali mammiferi quando la nostra funzione umana dice e da per scontato che non ce la fa e che è incapace che non riesce a fare nulla la seconda funzione quella che abbiamo in comune che gli animali che come un cavallo che usiamo per andare a fare le cose e la parte che fa la parte umana di noi dice dove andare e la parte che cammina è la nostra intelligenza animale siamo come una macchina dobbiamo mettere la frizione per portarla avanti siamo come cavaliere cavallo noi siamo la parte umana di noi tipica della specie umana cioè direziona il cavallo ma poi deve muovere le reti in modo che il il fallimento delle psicoterapie il fallimento della psicoterapia di questo signore di 52 anni che è sull'orlo della disperazione che è arrivata alla convinzione che è un incapace totale e perché così l'hanno convinta e il fatto stesso di non essere riuscito a trovarci ad avere qualcosa danni di psicoterapia e attribuirla a se stessa la colpa no la colpa è della nostra cultura cent'anni fa e cominciamo da freude il quale cent'anni fa questo signore andava da un prete né con questi suoi problemi e prete diceva cosa vuoi cosa desideri voglio questo voglio questo va bene allora caro giovanotto beh se vuoi tutte queste cose affidati non sei onnisciente non gli diceva nemmeno questo perché si accorgeva che l'altro voleva fare da onnisciente si accorgeva che il suo problema è seguire il desiderabile e vuole sapere il desiderabile vuole sapere prima di fare una cosa sapere che andrà bene ora se noi succediamo questo giovane di 52 anni per un attimo rimane con tutti i tuoi desideri o quello che fai che vuoi lavorare per bene che non vuoi rovinare la tua famiglia pensa un attimo solo che sei onnisciente e sai con certezza che la tua famiglia non la perdi che il tuo lavoro non lo perdi che sei efficiente come vuoi come desideri di essere avresti tutte queste ansie avresti tutte queste paure allora la causa di queste paure dove sta nel fatto che come hanno detto i miei colleghi e sono andate a scavare nel passato nell'inconscio qualcosa che poi viene definito inconscio cioè qualcosa che non conosco che poi devo conoscere ma insomma un po di liceo classico un po di logica qualche professionista mio collega la dovrebbe fare se si definisce qualcosa come non conoscibile rimane non conoscibile no che diciamo non è conoscibile ma può essere conosciuto come molti medici dicono la malattia è incurabile poi la vogliono curare se è incurabile è incurabile decidetevi quindi se viene definito incurabile vuol dire che è incurabile se viene definito che non si conosce non si conosce allora perché si va perdendo tempo anche il concetto di autostima è una bella trovata ma è una trovata che va a favore dello psicoterapeuta il quale ha una via d'uscita quando come questo signore che ha fatto tutte le psicoterapie di questo mondo non ci ha ricavato granché e gli psicoterapeutici dicono ma non è colpa nostra la psicoterapia è questa e altri riescono tu no e vuol dire che tu manchi di autostima cioè tu non ami te stesso traduciamo vediamo un po se questo signore non ama seriamente se stesso e questo signore ama molto se stesso tutto il contrario da dove nasce la sua paura nasce dal fatto che vuol difendere se stesso chi vuole difendere se stesso forse si odia teme che la reazione a ogni sua azione del mondo esterno non sia controllabile che è fuori controllo e quindi lo può ferire lo può distruggere scusate non ama se stesso questo signore ama troppo se stesso tende troppo a proteggere se stesso e perché tende troppo a proteggere se stesso perché è cretino no perché crede fermamente di poterlo fare non è scemo ma stranamente lo stanno convincendo che è uno stupido e stranamente se lui comincia a pensare con la sua mente umana che non c'è niente da fare la sua parte animale che è terribilmente intelligente realizzerà nei minimi particolari questo fallimento che questo signore teme ecco perché stiamo mettendo su una scuola in modo che le persone interiorizzino quello che è semplice non è complicato questo cervello e basta guardare gli animali non siamo mammiferi come gli altri animali però a differenza degli altri animali abbiamo un cervello che è tipico solo della specie umana che ha una memoria lunga in base alla memoria lunga può fare ipotesi che riguardano il futuro il nostro problema sono l'ipotesi che possiamo fare col futuro gli animali non hanno questo problema soltanto che facciamo ipotesi del futuro possiamo fare strategie preventive ma andiamo verso l'ignoto ecco di che è spaventato questo il suo signore dell'ignoto e perché spaventato perché vorrebbe renderlo noto è strano è un desiderio legittimo certo che è legittimo però questo desiderio legittimo non è realizzabile perché ecco qui il prete di cent'anni fa aiutava con la psicoterapia religiosa tu non lo puoi fare allora questo tuo desiderio affidano a chi c'è un padre o una madre più potente di tua madre più potente di tuo padre sono onniscenti come vorresti essere te prega dio onniscenti onnipotente di farti quello che desideri poi diti pure caro signore io accetterò qualunque cosa accadrà come segno della volontà tua che ne sai più di me beh gli uomini di cent'anni fa si quietavano su questa cosa le loro anzi finivano ma soprattutto il gioco dell'alternanza fra la funzione umana e la funzione animale consentiva agli uomini di cent'anni fa di realizzare ciò che desideravano noi possiamo realizzare i nostri desideri solo se conosciamo perfettamente quest'ordine questa è la finalità della nostra scuola della mia scuola e la finalità del fatto che uso l'ipnosi come dimostrazione di come funziona questo benedetto organo bene non voglio tediarvi più di tanto buongiorno spero che vi scriviate a questa scuola durerà un anno solare se vi scrivete oggi finirà il 13 di ottobre dell'anno prossimo per ognuno di voi per si scrive oggi beh per potervi scrivere segnatevi il numero di telefono della chiara massanti 3 3 8 70 56 680